C'è la necessità di intervenire con decisione e con la massima cederità dopo le copiose piogge delle scorse settimane. La tregua meteo mette a nudo le enormi criticità della strada provinciale 185 detta Ortalonga, che necessita di essere messa in sicurezza con interventi incisivi sul manto d'asfalto oramai completamente distrutto dalla pioggia e dal transito, anche di mezzi pesanti, nonostante il divieto ordinato in precedenza dall'ente provincia di Salerno, che detiene la competenza del tratto della strada extraurbana che collega la frazione Ortaloreto con la statale 268. Nei piani della provincia c'era volontà di rifare il tratto che va dallo svincolo della strada statale 268 fino all'intersezione con località Bagni, in territorio scafatese, ma le vere criticità si manifestano sul tratto che porta in località vagliana, dove il manto stradale o quello che resta presenta enormi crateri e voragini sulla superficie stradale oramai da tempo sott'acqua. L'ex presidente della provincia di Salerno, Michele Stianese, qualche anno fa in un soproluogo sul posto aveva promesso interventi di ripristino e l'apertura imminente del costruendo ponte sul rio Sguazzatorio, ma da due anni, nonostante i solleciti anche delle forze politiche locali, particolarmente quelle del gruppo consigliare Progettiamo per Angri, nessuna sollecitazione è stata presa in carica dal neopresidente della provincia, Franco Alfieri, con la conseguenza che gli abitanti della zona, oltre a fare i conti con gli allagamenti, oramai sempre più frequenti devono fronteggiare anche l'estrema pericolosità del manto stradale devastato dalle acque.